Era l'11 novembre 2018, attorno alle 13.30, quando Giacomo Gazzoli venne raggiunto da un proiettile alla schiena mentre era al volante della sua auto sulla strada che da Cortona Golgi conduce a Santicolo. Qualcuno stava sparando dai carteri stradali in località Dossello, frazione di Cortona in via Schivardi. Un proiettile vagante aveva raggiunto la vettura di Gazzoli trapassando la portiera sinistra del sedile e infilandosi nella schiena dell'uomo, allora 71enne, provocando una lesione alla spina dorsale. Per la procura di Brescia a sparare sarebbe stato un trentenne di Cortona Golgi che il prossimo 20 dicembre sarà in aula per udienza preliminare con l'accusa di lesioni gravi e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco. Si tratterebbe di una carabina di precisione modello Ticca calibro 300 classificata come arma comune da sparo. Sotto inchiesta inizialmente oltre la trentenne era finito anche il fratello dei 37 anni, la cui posizione è stata però archiviata dalla PM Claudio Amoregola che il 9 aprile scorso aveva chiesto invece il rinvio a giudizio di quello che ritiene responsabile del ferimento di Gazzoli. Agli atti dell'inchiesta ci sarebbero anche le intercettazioni telefoniche e ambientali che, sempre secondo l'accusa, lascerebbero pochi dubbi sulla responsabilità dell'indagato. Secondo una perizia tecnica chi ha sparato lo ha fatto da una distanza di 400 metri utilizzando un'arma e delle cartucce compatibili con le trenta sequestrate a casa dell'indagato. I consulenti nominati dalla procura hanno stabilito che il confronto tra frammenti di colore rosso individuati sulla portiera dell'auto di Gazzoli e il materiale presente sulle punte delle cartucce sequestrate ha fornito come risultato una piena compatibilità tra le rispettive resine dopo l'analisi effettuata con lo spettrofotometro che ha permesso di arrivare alla piena sovrapponibilità quindi alla coincidenza perfetta. Gli esperti hanno anche effettuato una ricostruzione in tre dimensioni attraverso la quale è stato stabilito che l'auto è stata colpita da un proiettile esploso da un promontorio ad una distanza di circa 400 metri percorrendo un'area con buona visibilità e libera da ostacoli. Anche la traiettoria del proiettile è compatibile con la posizione di tiro sia in piedi che sdraiata. Ora a quattro anni di distanza ci sarà un processo e forse anche per Giacomo Gazzoli è arrivato il tempo della tanto attesa verità dopo che aveva lanciato più volte ma inutilmente il suo appello al feritore perché si facesse vivo almeno chiedendo scusa.